salve e benvenuti siamo contenti di essere con voi oggi di parlare del piano di retribuzione parleramo di tutti i modi che avete per guadagnare e veramente approfondiremo come è semplice concentrato davvero retributivo quindi cominciamo ci sono quattro modi per guadagnare con life wave le commissioni al dettaglio la presentazione dei prodotti le commissioni binario cicliche e il matching bonus abbiamo parlato di questo piano che è semplice quattro modi per guadagnare ma anche un piano concentrato al life wave potete costruire sono sufficienti due team in altri business bisogna avere 5 6 7 o perfino 8 team con life wave solo due team il nostro piano è anche molto retributivo venite pagati in profondità illimitata invece molti altri piani pagano solo cinque o sei livelli con life wave venite pagati illimitatamente tutti i volumi che sono presenti nel vostro team quindi prima di cominciare a parlare un po più approfonditamente dei modi di guadagnare ecco alcuni termini che dovete conoscere quando noi parliamo del volume è il primo termine che dovete conoscere questo rappresenta una misura che noi utilizziamo i punti di valore negli acquisti dei membri dei clienti qualsiasi tipo di volume ci sono due tipi specifici di volume avete quello che si chiama il volume personale e quello che si chiama il volume di business il volume personale rappresenta quella misura personale di cui abbiamo parlato insomma i vostri acquisti e gli acquisti dei vostri clienti personali invece il volume di business si riferisce agli acquisti che vengono effettuati dai membri del vostro team e dai loro clienti personali torneremo a parlare di questo un po più approfonditamente perché ci sono queste due distinzioni lo spiegheremo lo spiegheremo ricordate questi due termini abbiamo anche una cosa che si chiama power leg profit leg abbiamo parlato di come ci sono due team che dovete costruire uno è considerato power team e l'altro profit il modo per capire la differenza tra i due team è che il team che ha più volume come quello di cui abbiamo appena parlato è il power quello che ha meno volume è chiamato il profit la prossima cosa che dovete conoscere è il rapporto cycle ratio rapporto ciclico ogni volta che avete il volume su entrambi i team quello power e quello profit questo è equivalente a un ciclo e vuol dire 50 dollari per voi parleremo di questi elementi specifici in un secondo ricordate questo dovete avere 660 bd nel power e 330 nel profit per completare un rapporto ciclico inoltre per quanto riguarda il volume del ciclo ogni settimana avete una nuova opportunità di qualificarvi per i bonus ciclici creando volumi ciclabili il volume ciclabile è un bd oppure un volume è un criterio di cui abbiamo parlato 660 e 330 è importante che voi capiate che questo rapporto deve essere soddisfatto ogni volta che viene soddisfatto soddisfatto si tratta di volume ciclabile quando avete entrambi nella settimana questo volume verrà riportato carry over poi abbiamo il volume di riporto carry over questo sono tutti i bv senza ciclo nel power nel profit che vengono spostati alla prossima settimana per un anno completo quindi abbiamo il volume maturo cioè tutto il volume bv non ciclato nel power e nel profit leg nel power leg nel profit leg quando raggiungete alla fine delle 52 settimane diventa maturo e questo volume non sarà più riportato in avanti bene allora io gli ultimi due termini che dovete conoscere prima di approfondire sono stato attivo e abbonamento mensile per essere considerati attivi ed essere donne per le commissioni binarie per i bonus matching bonus di cui parleremo tra un po voi dovete avere almeno 55 pd nel vostro account ogni mese e come abbiamo detto prima bv è una misura degli acquisti che voi avete personalmente effettuato e degli acquisti dei vostri clienti personali è una cosa importante da ricordare allora gli abbonamenti mensili sono importanti perché quando avete un abbonamento mensile potete ottenere i vostri prodotti ogni mese e questo vi aiuta a mantenere lo stato attivo il quale ripeto è una cosa che dovete avere per poter guadagnare i bonus ciclici anche il matching bonus allora quando cominciate con il business e ci presentate altre persone ci sono i vari kit che potete acquistare hanno prezzi diversi da 150 dollari fino a 1500 e ci sono vari tipi di kit di kit potete personalizzarli questo è molto bello dovete scegliere il kit che veramente corrisponde alle vostre intenzioni per il business decisamente ci sono dei vantaggi è importante davvero prendere in considerazione qual è il migliore per voi ora io vi consiglio personalmente quando iniziate con il business quello golden perché avete più potenzialità nel piano di retribuzione ci sono alcuni vantaggi anche con il platinum e il diamond però veramente vi aiutano a massimizzare l'ascolto multi unità che è disponibile ogni volta che fate un acquisto soprattutto a un livello più alte quando arruolate una cosa da prendere in considerazione prima di cominciare a parlare degli elementi specifici e questi ciascuno di questi kit che acquistate ha un titolo associato ad esso è lo stesso titolo e il nome del nome del kit quindi se voi acquistate il kit di golden il vostro titolo è gold è una cosa che dovete ricordare è importante sapere questo e ripeto il nostro piano è molto semplice il nostro piano è concentrato e il nostro piano è assolutamente retributivo quindi parliamo un attimo dei modi semplici che avete per guadagnare alcuni altri piani hanno moltissimi bonus incredibili molto strani magari vi sembra una cosa bella però invece io penso che sia più importante la semplicità quindi quattro modi per guadagnare al dettaglio il bonus di presentazione dei prodotti commissioni binarie e il bonus di equivalenza marching bonus cominciamo con le commissioni al dettaglio con le commissioni per le vendite al dettaglio si può guadagnare in due modi una volta che voi o uno dei vostri clienti compra un prodotto life wave poi ricevete una commissione e ricevete anche volume sotto forma di volume personale vi ricordo questo il volume personale è una cosa importante per voi per essere attivi in modo da essere qualificati per guadagnare le commissioni binarie cicliche ecco un esempio ogni volta che uno dei vostri clienti acquista un x 39 voi ricevete 20 dollari in commissione al dettaglio e 43 bt il secondo modo per guadagnare le commissioni al life wave è la presentazione dei prodotti pib noi li chiamiamo così questi sono bonus che voi guadagnate per aver presentato life wave a nuovi membri voi ricevete questo bonus per ogni nuovo membro o per una grade che compra il nuovo membro potete vedere qui nel diagramma i bonus che guadagnate hanno vari prezzi e si basano sul kit che quella persona acquista secondo il qui il kit che acquista voi ricevete il bonus i diamond e platino ci sono dei incentivi extra che sono disponibili per voi vi consiglio davvero di esaminare il vostro piano di retribuzione la documentazione per capire come tenere questi extra bonus oppure guardate il nostro video che parla specificamente dei pib il terzo modo per guadagnare quello delle commissioni binarie cicliche questo è molto speciale so che questo è molto speciale perché noi costruiamo nei team sia il power leg che il profit leg questo è un modo per guadagnare le commissioni fino a 50 dollari e dovete avere questo rapporto ciclico cioè vuol dire che dovete avere 660 bb su power quello con più volume e 330 sul profit quello con meno volume ogni volta che il rapporto è disponibile voi siete qualificati e avete diritto al bonus per un massimo 50 dollari ogni settimana noi guarderemo tutti i volumi nel vostro team sia il power che il profit e ogni volume che soddisfa questo rapporto ciclico nel vostro team è considerato ciclabile volume ciclabile per la settimana e ogni settimana questo volume viene elaborato consumato e quindi voi avete guadagnato delle commissioni per poter ricevere queste commissioni che vengono guadagnate tramite questo volume ciclabile voi dovete essere sicuri di essere qualificati come binari per avere questo ci sono tre requisiti che dovete soddisfare dovete essere attivi con almeno 55 pv al mese questo viene come ho detto prima questi pv vengono generati in base ai vostri acquisti personali agli acquisti dei vostri clienti personali inoltre esiste un requisito strutturale dovete avere un membro sponsorizzato personalmente almeno di titolo bronze o superiore in ciascuno dei vostri team o leg quindi un bronze sul power e un bronze sul profit dovete anche avere questo corretto rapporto ciclico disponibile è quello di cui abbiamo appena parlato 660 sul power e 330 sul profit abbiamo parlato dei ti questa è una cosa davvero quando avete questi questi titoli siete pronti questa è una cosa davvero da prendere in considerazione nei titoli di arruolamento ci sono quantità massime che potete guadagnare ci sono moltissime potenzialità in questo piano quando voi avete un titolo di arruolamento non avete ancora il rango di manager per esempio siete limitato a due cicli a settimana oppure a 100 dollari quindi dovete cercare di arrivare al livello di manager per questo sblocca tante potenzialità ne parleremo dopo in ciascun rango voi potete vedere che esiste un'ottima potenzialità di guadagnare questo viene predisposto in modo che in base a dove vi trovate nella vostra crescita con il team con l'organizzazione e in base al vostro desiderio di condividere avete ottima opportunità di guadagnare ogni settimana potete vedere nel nostro primo rango di manager avete la capacità di guadagnare un massimo di 1500 dollari a settimana e questo continua fino a 225 mila dollari che ve ne pare bello il numero 4 il modo il quarto modo di guadagnare il marching bonus abbiamo parlato di come c'è molto potere nel sistema binario e questo bonus è in aggiunta a quello qui avete davvero l'opportunità di guadagnare reddito residuo che può veramente aprire le porte per guadagni illimitati questa è la parte illimitata del nostro piano di retribuzione quindi quando voi aiutate i vostri sponsor personali membri binari per le commissioni binario cicliche facendo crescere il loro team voi guadagnate altri 20 25 per cento di equivalenza cioè il match su quelle commissioni questa è una bella cosa quindi questa somma non viene presa dalle altre persone che voi aiutate questa è in aggiunta a quelle commissioni è in aggiunta a quello che voi avete già guadagnato per quanto riguarda il bonus ciclico potete ricevere questo tipo di bonus ai primi tre livelli quando voi se avete soddisfatto i requisiti nell'albero è binario si è parte del nostro sistema binario voi venite premiati perché avete aiutato le persone nel business che sono entrate nel business e quelli che loro hanno portato nel business e quelli che loro hanno portato nel business fino a tre livelli nel primo livello le persone che voi personalmente avete sponsorizzato per questo voi avete l'opportunità di guadagnare 25 per cento di match sul loro bonus ciclico e le qualificazioni per ottenere questo sono effettivamente molto semplici bisogna essere attivi a 110 pv e dovete anche essere un manager oppure di livello superiore le qualificazioni per il secondo e terzo livello sono un po più complesse ma voi potete farlo e si apre poi il 20 per cento di opportunità anche con questi potete vedere che il nostro piano è semplice il nostro piano è concentrato e il nostro piano è molto remunerativo potete guadagnare molto come massimizzare queste potenzialità le vostre potenzialità sono senza fine se volete altre informazioni su questi quattro modi di guadagnare guardate i nostri altri video dove approfondiamo un po di più ogni modo di guadagnare e diamo tutte le informazioni specifiche su come massimizzare le opportunità